Cosa ha fatto questa amministrazione a distanza di un anno dall'incontro e dalle conseguenti promesse fatte a nostro comitato per fronteggiare la situazione? E cosa ha fatto in merito all'impegno preso con la delibera del Consiglio Comunale a sollecitare gli amministratori di Palazzo San Francesco riguardo i miasmi della discarica di Noce Mattei del Coggesa e il Comitato Murrone sul Monavalle Peligna, ovvero i residenti della frazione Marane che lo scorso anno sceso re strada contro il cattivo odore dell'impianto? Ad oggi nulla è cambiato, i problemi continuano ad esistere e soprattutto riceviamo segnalazioni di malessere fisico da parte di cittadini che continuano a inalare odori in nausea bondi il cui contenuto è ancora a noi sconosciuto, fanno notare dal Comitato che chiedono conto al Comune degli impegni assunti con l'atto recepito dall'assise civica, utilizzare tutte le somme provenienti dal ristone ambientale per le opere utili alla comunità, quali lo studio, l'analisi del territorio circostante, dell'acqua, aria e suolo, nonché per tutte le opere necessarie a garantire una corretta mobilità attraverso il miglioramento stradale, verificare le risorse ricevute circa il ristone ambientale dell'annualità 2013-2019 e riferire le azioni volte alla tutela della salute dei cittadini delle zone interessate dalla propagazione di odori molesti. Il Comitato torna alla carica.